La grande roccia Un giorno un ragazzo molto abile, benché giovane, andò a cacciare e nel carniere raccolse cinque pernici. Mentre tornava verso casa a averti una grande stanchezza e si poggiò vicino una grande roccia che somigliava a una testa umana. Una voce parlò. A parlare era la grande pietra al quale si era appoggiato per riposare. Ti racconterò una storia. Io sono la grande roccia. Cominciò a parlare raccontando la creazione della terra. Durante questa splendida narrazione il giovane vertì un grande calore che sciolse il gelo e si sentì in pace. Alla fine il ragazzo ringraziò e corse a casa per fare conoscere questa magnifica storia alla famiglia. Entrato nella capanna annunciò di dover raccontare qualcosa di straordinario. Tutti si radunarono intorno al fuoco e il giovane ripeté il lungo racconto della grande roccia. Le sue parole scacciarono il gelo dell'inverno e riscaldarono gli animi di tutti. Quella notte tutti dormirono in pace. Il giorno seguente il ragazzo si recò nuovamente dalla grande roccia e le chiese di narrargli una nuova storia. Continuarono così per molti giorni. Nel corso di tutto il lungo tragitto invernale, quando il gelo cerca di mordere il cuore degli uomini, grande roccia gli raccontò dei tempi antichi, quando il cielo e la terra erano nuovi e il sole e la luna dei giovani amanti. Giunta la primavera, la grande roccia non raccontò più, ma gli disse «Ti ho raccontato tutte le mie storie, ora dovranno essere custodite dal tuo popolo. Le racconterete i vostri figli e loro ai nipoti e aggiungerete altre storie che verranno. Torna dai tuoi e vivi nella pace». Fu così che le storie entrarono nella vita, nella cultura degli indiani e sono raccontate ancora oggi davanti al fuoco durante le notti invernali per riscaldare il cuore degli uomini. Vi è molto di folle nella vostra cosiddetta civiltà. Come pazzi voi, uomini bianchi, correte dietro al denaro fino a che ne avrete così tanto che non potete vivere, potete vivere abbastanza a lungo per spenderlo. Voi saccheggiate i boschi e la terra, sprecate i combustibili naturali. Come se dopo di voi non venisse più alcuna generazione che ha altrettanto bisogno di tutto questo. Voi parlate sempre di un mondo migliore, mentre costruite bombe sempre più potenti per distruggere quel mondo che ora avete. Tatanga Mani, capo indiano della tribù dei Siu Oklaga, conosciuto come Toro Seduto. Pensiero degli americani nativi Un anziano cerocchi parlava al nipote della vita. «Dentro di me c'è una lotta», disse il ragazzo. «C'è un terribile combattimento tra due lupi. Uno è cattivo, è rabbia, invidia, dolore, rimorso, avidità, arroganza, autocompattimento, colpa, risentimento, inferiorità, bugie, falso orgoglio, superiorità ed ego». Poi continuò. «L'altro è buono, è gioia, è pace, amore, speranza, serenità, umiltà, gentilezza, benevolenza, empatia, generosità, verità, compassione e fede. Lo stesso conflitto c'è anche dentro di te e dentro ognuno di noi». Il nipote riflette un minuto su queste parole. Poi domandò al nonno «Quale lupo vincerà?». L'anziano cerocchi disse semplicemente «Quello che nutri». I dieci comandamenti indiani «La terra è la nostra madre, abbi cura di lei. Onora, rispetta tutti i tuoi parenti. Apri il tuo cuore e il tuo spirito al grande spirito. Tutta la vita è sacra, tratta tutti gli esseri con rispetto. Prendi dalla terra solo ciò che è necessario, niente di più. Fai ciò che bisogna fare per il bene di tutti. Ringrazia costantemente il grande spirito per ogni giorno nuovo. Devi dire sempre la verità, ma soltanto per il bene degli altri. Segui i ritmi della natura, alzati e ritirati con il sole. Gioisci nel viaggio della vita senza lasciare orme. Preghiera per il grande spirito Tatanga Mani, bisonte che cammina Oh, grande spirito, la cui voce ascolto nel vento, il cui respiro da vita tutte le cose. Ascoltami. Io ho bisogno della tua forza e della tua saggezza. Lasciami camminare nella bellezza. E fa che i miei occhi sempre guardino il rosso e purpureo tramonto. Fa che le mie mani rispettino la natura in ogni sua forma. E anche le mie orecchie rapidamente ascoltino la tua voce. Fa che io sia saggio e che possa capire le cose che hai pensato per il mio popolo. Aiutami a rimanere calmo e forte di fronte a tutti quelli che verranno contro di me. Lasciami imparare le lezioni che hai nascosto in ogni foglia e in ogni roccia. Aiutami a trovare azioni e pensieri puri per poter aiutare gli altri. Aiutami a trovare la compassione senza l'oprimente contemplazione di me stesso. Io cerco la forza non per essere più grande del mio fratello, ma per combattere il mio più grande nemico, me stesso. Fammi sempre essere pronto a venire da te con mani pulite e sguardo alto. Così quando la vita appassisce, come appassisce il tramonto, il mio spirito possa venire a te senza vergogna. Fratelli miei, di Tatanka, Yatanka, toro seduto del popolo Siu. Guardate, fratelli miei, la primavera è arrivata, la terra ha ricevuto l'abbraccio del sole e noi vedremo presto i risultati di questo amore. Ogni seme si è svegliato e così anche tutta la vita animale. E' grazie a questo potere che noi esistiamo. Noi perciò dobbiamo concedere ai nostri vicini, anche ai nostri vicini animali, il nostro stesso diritto di abitare questa terra. E' stato il grande spirito a porre qui la terra e non possiamo venderla perché non ci appartiene. Potete contare il vostro denaro e potete bruciarlo nel tempio in cui un bisonte piega la testa. Ma soltanto il grande spirito sa contare i granelli di sabbia e i fili d'erba della nostra terra.